Noi come associazione sportiva in Alpesca, avendo un tratto in gestione che va da Pontevecchio a Fornace Pica, perché il calendario piscatorio dovrà uscire, abbiamo rilevato diversi scarichi fognari lungo il nostro tratto. Scarichi fognari che qualcuno è attivo tutto il giorno, qualcuno si attiva, non abbiamo ben capito in che situazioni. Abbiamo delle situazioni abbastanza anomali anche nei depuratori, per quanto riguarda Bottega e la zona di Osteranova. L'anno scorso, durante il periodo di giugno e luglio, abbiamo rilevato parecchie morti di pesci, carasso, cavedano, qualche carpa. Non sappiamo cosa è la causa scatenante, perché servirebbe un rilevamento fatto da un etiologo, però diamo le cause all'inquinamento. Una situazione riscontratta maggiormente anche in questo periodo, nonostante la zona rossa, nelle settimane precedenti voi come associazione potevate comunque svolgere la vostra attività e avete riscontrato di nuovo questo problema. Noi, essendo tesserati agonisti, potevamo, ovviamente rimanendo nel nostro comune, infatti le segnalazioni ci sono arrivate da Vallefoglia, Montalabate, abbiamo rilevato queste anomalie, cioè acqua in questo periodo prettamente pulita, bella, limpida, in certi punti c'è questo deposito di materiale che non capiamo, ripeto, cosa sia. Che venga da fogne o depuratori, qualcosa nel fiume va, perché vediamo un'acqua blu e queste fasce di materiale marrone non sappiamo cos'è. La richiesta anche di questa segnalazione perché è rivolta? La richiesta, cioè la segnalazione è rivolta a tutti gli enti, che siano, non lo so, chi gestisce i depuratori, ma i corpi di polizia, cioè che almeno vigilano, polizia provinciale, forestale, ci servirebbe anche una collaborazione con loro, i comuni, perché i comuni comunque si hanno tutto dato, penso, in gestione a varienti. La segnalazione è verso di loro, cioè questo servizio è principalmente per quello. Anche perché ci avviciniamo poi nella stagione clou? Adesso il periodo, le piogge iniziano a scarseggiare, il fiume sicuramente si abbasserà e non ci vorremmo trovare una situazione di anno scorso di trovare pisci morti per il fiume, il problema è quello. Grazie.